L'operazione consiste in un ulteriore intervento di recupero fognario depurativo lungo l'asta del Foglia. È un intervento che ci consente di collegare tutta la parte fognaria dei due borghi, Monte Colbordolo e Monte Fabri, al depuratore di Colbordolo, che poi dopo sarà collegato al depuratore principale di Montecchio, quindi sarà ovviamente spento anche quello di Colbordolo. È un intervento importante, viene da lontano, è stato inserito nella pianificazione dell'atto come intervento fognario e abbiamo colto l'occasione come azienda, congiuntamente all'amministrazione comunale, di inserire nel progetto poi la metanizzazione di questi due borghi. È un intervento quello della metanizzazione che va sempre nell'ottica ambientale perché consente a questi borghi di utilizzare un combustibile più pulito, più sicuro, più conveniente e quindi diciamo che è un contributo, chiamiamolo così, dell'azienda a fianco dell'amministrazione comunale a rendere questi borghi più vivibili e più competitivi rispetto al passato. I lavori cominceranno il prossimo mese di luglio, quindi all'inizio di luglio e dovrebbero essere relativamente veloci, conseguentemente il lavoro finale anche con i ripristini del manto stradale sono previsti entro giugno del prossimo anno quindi diciamo che almeno una delle due realtà potrebbero essere collegate addirittura con la metanizzazione entro il prossimo autunno. Un investimento direi storico di 2 milioni di euro programmati dal lato grazie all'allora Presidente Tagliolini, a Marche Multisivista, amministratore delegato di Viroli che sono sull'ambiente, sulla qualità dell'aria, col metano al posto delle vecchie bombole del gaso, i bomboloni e con un forte valorizzazione anche del bene perché è chiaro che il metano significa la depurazione, valorizzare almeno un 20% in più i fabbricati e soprattutto ecco un luogo come uno dei borghi più belli d'Italia che è il centro storico Montefabri e avere la depurazione e la metanizzazione significa anche avere la possibilità di recupero dei beni perché senza la depurazione e metanizzazione, soprattutto la depurazione, era vietato anche recuperare dei beni quindi e poi consente, mette i cittadini tutti uguali nel senso che quelli che stanno nelle colline nei borghi storici, nell'ambiente, nel paesaggio incontaminato dei castelli di Sant'Angelo in Lizzo di Colbordo e di Montefabri alla stregua di quelli che stanno in pianura che hanno il gas metano e che hanno la depurazione dei collettori sono milioni e milioni di investimenti che consentono di dare opportunità di lavoro alle imprese anche le imprese locali quindi ben venga questa operazione di risanamento igienico-sanitario tutela dell'ambiente e del paesaggio